Cosa leggi? Economia Ciao, sono nuova vicina Non ho potuto comprare latte fresco Tu hai di prestare? Per chi non può fare la spesa tutti i giorni Oggi c'è Granarolo Più Giorni Il buon latte che dura più a lungo Grazie al metodo naturale Granarolo Mmm, buono! Più giorni? Sì, sì, più giorni Così per un bel po' non torni Granarolo Più Giorni La bontà che dura più giorni Grazie a tutti